Nella calda concittazione, fiora di punteggiatura malinconica, forza di scaglie di detestabile rischio, tra un trincetto studismo e un sintesco opusto sotto caccate di curia dei tuoi portamenti, le sue erbe ero stembiate ed eloquenti, i tuoi comportamenti ai capeifici dove andavamo a meno marci. E la metropolitana andava, e la metropolitana andava, e la metropolitana andava, Alberto Pastor, la tua militanza claustrale, la nostra proiezione a strade, la tua militanza claustrale, e la metropolitana andava, e la metropolitana andava, e la metropolitana andava. E la metro punta non dava a un certo fattore Ma perché? Perché? Dimmi almeno perché Ma che cosa hai? E' che il mandrillo non è morto Un giorno all'improvviso si è accasciato e non si è più rialzato Ho provato di tutto Analisi, medicina, psichiatri, stregoni, niente Ci serve il trapianto? Ma sinceramente me la faccio sotto Ma non sai che è il donatore, non sai che cazzo ti mettono Capisci cosa vuol dire stare vicino a una bella ragazza come te e non poter dare? Che crudele destino Adesso capisco Povero zietto Mi dispiace di averti ferito Com'è ingiusta la vita